Oggi vi parlerò del pesce rosso. Lo sapevate che, subito dopo il cane e il gatto, il pesce rosso è comunissimo nelle famiglie italiane. Proprio perché è così presente nelle famiglie italiane è giusto che questo pesce abbia il giusto spazio dove poter vivere. La boccia di vetro, la classica boccia di vetro, sicuramente è piuttosto obsoleta. I pesci rossi hanno un bel carattere, possono vivere insieme e per un gruppo come questo gli è stata riservata appunto una vasca da 80 litri. È importante garantire appunto una temperatura dell'acqua costante attraverso il termoriscaldatore tra i 18 e i 21 gradi, a seconda delle stagioni. È importante trattare preventivamente l'acqua con un prodotto, un biocondizionatore, in questo caso Prodac Acquasana Goldfish, che appunto abbatte i mesalli pesanti e rende innocui sia il cloro che la cloramina. Sarà importante alternare Prodac Goldfish Premium, scaglie proteiche vitaminizzate, che hanno proprio la caratteristica di affondare molto lentamente. Questo prodotto può essere alternato a Prodac Coldwater Granules, arricchito con cantaxantina, che permette proprio di valorizzare la livrea dei pesci. E poi ancora con Prodac Coldwater Granules Veggie per una dieta a base di vegetali. Ricordatevi che acqua sana e un'alimentazione corretta garantiscono la salute dei vostri piccoli e un'alimentazione corretta garantiscono la salute dei vostri piccoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.